Ciao a tutti e benvenuti a Ferrara! Nel nostro tour ti porto in Via delle Volte, Piazza Trento Trieste, dove puoi ammirare la cattedra e il castello, Piazza del Municipio, Palazzo dei Diamanti. Poi vi darò alcuni consigli di alimentare per visitare le walls di Ferrara. Una delle cose più interessanti su Ferrara è la sua atmosfera medioevole. Per sentire la via in Via delle Volte. La maggior parte delle attraccioni in Ferrara sono situate in un centro storico, e a parte di questo, c'è la piazza Trento Trieste, con un castello a una parte e un castello formando un entiere sign. Il castello di Este era una casa e un palazzo di una famiglia potente del castello di Este. La fronte del castello moves from a romanesque lower tire built in the early 1100s upward to a beautiful early gothic loggia from the 1500s. Palazzo dei Diamanti, which means Diamonds Palace, is heartless, with its entire exterior covered in more than 8500 faced marble blocks. For your meal, I suggest to go in Take It Easy and taste the pasticcio ferrarese di maccheroni, which is pastry filled with ragù and mashu. and your trip visiting the walls that surround the historic center. And don't forget to subscribe to my travel channel. this is the Luca Paret een eigena film! we will. our TVO csak Stefano, BB